Un boato improvviso ha rotto il silenzio della quarantena faentina. Attorno alle 11 di venerdì 24 aprile, in via Largo Portello, sede di alcuni uffici dell'Ausla Romagna Faenza, alcuni dipendenti al lavoro all'interno hanno sentito scricchioli provenire dal soffitto del primo piano. Da lì a poco, una porzione del tetto è crollata, riempiendo gli uffici di macerie e distruggendo mobili, computer e soppelletti li presenti. Lo stabile, da alcuni mesi, un paio per la precisione era interessato da alcuni interventi di ristrutturazione, poi bloccatisi a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Dai primi rilievi, la stima dei danni supererebbe i 50.000 euro. Ora, l'area è stata interdetta e messa in sicurezza, in attesa di poter riprendere i lavori di ristrutturazione, manutenzione e rifacimento della copertura, a cui si aggiungeranno anche quelli procurati dal crollo. Grazie. 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 Grazie.